Stiamo andando dove? Arischia! Arischia! Vi ricordate precisamente dove? Eremo di San Nicola! Andiamo a stare alla fontana dove oggi ci esibiremo con il nostro, la nostra Napolitudines e intanto vi salutiamo qui dalla Mad Mar! Ciao! Ciao! Stai in una manastrina, si sto solo mi accompagna, non c'è stato mai un momento che a merito non c'è stonga, si stavi d'un giro dietro e stai insieme tutti i giorni, non mi importa perché t'andare in tuo cuore, già stai sempre per me, con te, la vita canta, tu, per me, sì che il ragazzo conto sa che il ragazzo è unico Unico qui a Ischia, veramente unico L'eremo di San Nicola, che spettacolo! Stiamo montando, ci stiamo preparando Siamo venuti in un posto veramente in Ischia, a suonare, abbiamo conosciuto il sindaco, ci troviamo un'ospitalità bellissima, tutto bello Peccato per la nebbia, altrimenti sarebbe stato bello anche farvi vedere il paesaggio